La partita è chiusa, almeno per gli uninominali di Camera e Senato, con la Lega che gioca di fatto esclusivamente la carta della continuità. I volti sono tutti noti, si tratta di parlamentari uscenti a caccia di riconferma. Per Montecitorio i nomi sono quelli della veneziana Giorgio Andreuzza, dei trevigiani Dimitri Cohen e Ingrid Bisa, del veronese ex-ministro Lorenzo Fontana, dei padovani Massimo Bitonci e Alberto Stefani, commissario regionale. Per il Senato, in pole position da Verona Paolo Tosato, che tenta il trissa, e da Bassano Maravizzotto, che dovrebbe lasciare lo scranno all'Europarlamento alla veronese Paola Ghidoni, prima dei non eletti. Quasi tutti i salvignani di ferro evidenziano in tanti dalla base nulla di anomalo, anzi, per il capogruppo del carroccio in consiglio comunale a Treviso. Le faccio una confidenza qui davanti agli schermi. In questo momento, siccome Salvini sta compilando le liste, come tutti i segretari di partito, sono tutti i salviniani, sa? Battuta parte, per lo stesso Barbisan, la strada era tutto sommato tracciata. Noi abbiamo nove parlamentari uscenti, nove persone sulle quali non si può dire nulla, se non che si siano impegnati. Abbiamo il taglio del numero dei parlamentari, quindi veda lei. Restano accese le caselle dei listini proporzionali e con esse le speranze di altri leghisti di primo piano, da Gianangelo Boff, commissario Treviso, ad Angela Colmellere, ex sindaco di Miane. E questo, mentre gli altri del centrodestra prendono tempo, in Casa Forza Italia sembra che il posto più pesante in vista sia destinato ad Anna Maria Bernini, bolognese, fedelissima berlusconiana. La stessa Maria Elisabetta Alberti Casellati, seconda carica dello Stato, potrebbe correre in Basilicata. Più spazi di manovra, vista la crescita esponenziale rispetto al 2018, ce li ha Giorgia Meloni. Certo, i big in Fratelli d'Italia non mancano nemmeno in Veneto. Ci sono il coordinatore Luca De Carlo, Ciro Maschio, Maria Cristina Carretta e Adolfo Urso. E poi c'è l'asso nella manica, quel Carlo Nordio, magistrato trevigiano simbolo della legalità che ha sciolto le riserve. Lo stesso coordinatore Giuseppe Montuori, dato tra i papabili, fa un passo indietro. Diciamo che penso che per chi fa come me, il coordinatore in provincia di Treviso, avere individuato una figura di questo tipo sia un onore, sia stato un lavoro meraviglioso fatto da Roma al Veneto con Luca e in provincia con me, che ci porterà solo prestigio. Grazie.